Ciao, sono Federica Ruzzo e sono un portiere. Nella mia carriera ho vissuto le maglie di Torino, Juventus, Napoli e Riozzese Como. Pomigliano vista d'avversaria è stata una squadra ostica, con se si può dire tanta cazzimma. E mi è piaciuta vederla tanto da fuori, anche l'ultima partita, quando poi abbiamo perso, mi ricordo che ero proprio seduta qui e mi sono messa a vedere le ragazze che esultavano perché mi sembravano un gruppo fortissimo. La Serie A che verrà, secondo me, sarà tosta, sarà un campionato molto difficile, con tre retrocessioni, quindi ci sarà da combattere e ogni partita diventa una finale. Ho scelto Pomigliano perché mi sono innamorata del sud, della città di Napoli e tutto il contorno che c'è e mi piaceva anche molto il progetto e quindi sono venuta qui proprio volentieri e innamorata del posto. E ora, forza Pomigliano!